Dopo l'esordio positivo in trasferta contro il Cus Palermo, l'Olimpia Basket Canigatti affronta in casa per l'esordio stagionale il Trapani. C'è entusiasmo attorno a questa nuova società, a questo nuovo progetto sportivo? Sì, l'entusiasmo stiamo vedendo di giorno in giorno che sta crescendo perché molta gente si sta avvicinando alla squadra, anche negli allenamenti ci sono persone che vengono a assistere, quindi l'entusiasmo sta crescendo. Ora sta tutto a noi, continuare a dare questo entusiasmo vincendo le partite. Sabato abbiamo messo la prima vittoria in campionato, una partita che era difficile. Fortunatamente è andato tutto bene, quindi ora speriamo di continuare. Un paride giusti che è stato straordinario, stato sferico la scorsa settimana e che ha fatto numeri da capogiro. Paride lo sapevamo, è un giocatore che in questa categoria diciamo che c'entra poco o nulla. Abbiamo preso noi Paride e Falanga che sono i nostri leader, tra virgolette, tutti quelli che porteranno avanti tutto l'anno la squadra, si caricheranno la squadra sulle spalle e dovranno aiutare tutti i giovani che abbiamo e perché abbiamo molti giovani che sono alla loro prima esperienza. Come avete preparato in questa settimana invece la sfida contro il Trapani? È una sfida dura perché noi abbiamo la squadra, come noi, ancora non è completa. Poi abbiamo il problema di Paride che è stato spulso a Palermo ed è squalificato. Per noi è un'assenza molto importante. Abbiamo provato delle cose per superire l'assenza di Paride e speriamo che riusciamo, perché per noi è già importante vincere la partita in casa. C'è entusiasmo non solo all'interno della squadra, ho visto che avete anche molta familiarità, ci si diverte anche negli allenamenti. Sì, questo è vero. Siamo grande e un bel gruppo perché noi prima abbiamo preso ragazzi, soprattutto bravi ragazzi, perché in allenamento ci divertiamo, stiamo lavorando bene, mi ascoltano, quindi è la cosa fondamentale, quindi si lavora bene e sotto questo aspetto sia io che la società è molto soddisfatta.